nella bibbia ci sono 2000 passaggi dove voglio dire se uno vuole può prendere tanti spunti tu la mia conferenza morris nel mio canale che gli alieni nelle sacre scritture credo che abbia superato le 350 mila visualizzazioni ma infatti voglio farti questa domanda dopo questa esperienza perché sai la chiesa ci ha abituato a hanno deificato per il mio a una razza aliena è brutto dirlo così volgarmente tu a che cosa credi il dio a cui credi tu chi è perché ci ha insegnato a dire c'è gesù cristo c'è dio c'è la madonna dopo i tuoi studi che idea ti sei fatto studi e esperienze allora la chiesa cattolica contiene in sé la verità ma ne ha perso le chiavi e non la sa spiegare quindi la triade è realmente il padre il figlio e lo spirito santo il padre è l'eloim di settima dimensione che il governatore o l'imperatore o il dittatore ma dittatore in senso positivo ma dittatore è cioè con poteri assoluti che vive nel sole ed è un essere della settima dimensione cristo è l'emanazione purissima del dell'androgeno di settima dimensione perché dio è un androgeno è padre e madre infatti cristo viene chiamato unigenito nato dall'uno quindi l'uno genera da sé generato ma non creato dalla stessa sostanza del padre queste verità ci sono nel cristianesimo ma non ci capiamo nulla non è facile non è facile ma questa comunque la teologia cosmica non è che me la tiro fuori io sono le istruzioni che ci ha dato eugenio c'è che ci hanno dato gli esseri attraverso eugenio perché eugenio è l'espressione del è una delle espressioni del paraclito del consolatore che cristo profetizza nella bibbia verrà uno che vi dirà tutte quelle cose che oggi non vi posso dire quindi eugenio non è stata sul piano umano la una delle massime espressioni perché siamo nel tempo della rivelazione cioè dell'apocalisse dove vengono sciolti tutti i sigilli apocalittici e la rivelazione apocalisse vuol dire rivelazione viene data all'umanità perché perché questo dittatore che governa il sistema solare ha stabilito la rivelazione della verità tutta per l'instaurazione del regno quindi ma è un fatto che tiene alla storia dalla geopolitica alla società non è un fatto religioso nel senso tradizionale perdonami si interrompe un attimo nel vecchio testamento però si parla di un dio che ha fatto anche la strage ucciso anche bambini ucciso donne perlomeno così c'è scritto la bibbia allora è un dio buono un dio cattivo cioè il mio dubbio è proprio questo è vero che la bibbia è stata riscritta mille volte però allora l'uomo novus morris è una revisione radicale a 360 gradi di tutto ciò che noi sappiamo perché è tutto falso perché è tutto falso ce lo spiega la madonna nel messaggio di fatima satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose quindi satana ci nutre di menzogna quindi tutte le istituzioni sono governate da questa mente dell'inganno e della menzogna perché satana è il principe che governa fino al ritorno del re e quindi essendo il principe della menzogna lui semplicemente la verità non la può dire perché avendo potere solo nel regno fisico della materia lui cerca di mantenere gli spiriti intrappolati in una evoluzione paralizzata all'interno di un corpo inserito in un circuito karmico permanente che è il suo regno lo so che è complicato è un po complicato perché perché la natura della visita extraterrestre è questa rivelare questa scienza senza la quale l'uomo non si può emancipare quindi ci vuole tempo per questo io poi a chi me lo chiede regalo 20 libri in formato elettronico dove queste cose sono spiegate invito a vedere le conferenze che sono nel mio canale youtube è un processo dilattico complesso quindi tornando alla tua domanda chi è dio allora quindi dio il dio l'eloim che si chiama adonai è il governatore il re il dittatore di questo sistema solare ogni sistema solare ogni sole è un dittatore di settima dimensione infatti nella bibbia si parla degli dei facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza come nostra ma non era uno certo l'uno è il santo spirito l'increato creatore quindi padre adonai figlio cristo figlio dell'uomo gesù personificato da cristo due identità in un unico corpo è il santo spirito quindi in realtà sarebbe spirito santo padre e figlio questa è la gerarchia quindi l'intelligenza incommensurabile che compene tra tutti gli universi tutti i cosmi e il santo spirito da lui nascono tutte le divinità ma attenzione cristo ci ha detto anche voi siete dei e farete cose più grandi di me quindi in realtà dio crea da sé mete e tutti e tutti siamo fatti della sua sostanza solo che l'androgeno di settima dimensione può generare miliardi di scintille spirito ma può generare un solo figlio perfetto che nasce senza dover fare la fatica evolutiva che dobbiamo fare io e te e tutti noi nasce già serafino della se della sesta dimensione quindi perché cristo è così amorevole con l'uomo perché lui sa di essere nostro fratello e quindi ci tende la mano per portarci a lui cioè per farci evolvere e arrivare alla dimensione dove lui ecco io vado a prepararvi un posto affinché poi io posso tornare vi porto dove io sto cioè sono tutte cose spiegabili se comprendi la chiave di lettura quindi questa è la triade e in questa triade si innesta il figlio dell'uomo che è gesù di nazareth che a 30 anni nel fiume giordano viene personificato dal dal logos solare cristo cristos l'unto gesù è l'unto da cristo vedi il bagnato evapora se tu ungi un panno quello rimane sempre unto quindi quando l'entità solare divina personifica un essere umano lo deifica lo cristifica questo accade ma questo accade prima o poi nell'arco di milioni e miliardi di anni a tutti gli spiriti creati quindi ogni volta che uno spirito raggiunge quel livello dimensionale si accende un sole e si forma un sistema solare pensa che cosa meravigliosa a possiamo dirlo volgarmente che gesù cristo è un extraterrestre perdona il paragone stupido no gesù cristo non è un extraterrestre perché è sbagliato il concetto lo spirito è del cosmo i pianeti sono solo delle aule dove lo spirito si incarna secondo della necessità della lezione che deve apprendere quindi in realtà noi siamo abitatori dell'universo non apparteniamo a nessun pianeta se non per un certo tempo chiaro quindi sicuramente molti di noi non sono di questo mondo ma vengono in questo mondo o per necessità missionarie civilizzatrici o per necessità di apprendimento o per necessità di spurgo carmico perché il pianeta terra è uno degli ospedali psichiatrici quindi criminali dove gli spiriti di questo ramo della galassia vengono a espiare le loro colpi quindi va rivisto completamente il concetto di extraterrestre perché una volta che lo spirito si emancipa e raggiunge in sé la stabilità dell'etica non si incarna più in un mondo come la terra va in mondi più avanzati ma questo avviene da migliaia di anni quindi il concetto stesso di terrestre o di extraterrestre è sbagliato infatti questi esseri che ci visitano dicono voi siete i nostri fratelli perché magari alcuni di questi che vengono da altri mondi era gente che viveva in atlantide non è stata coinvolta nel karma di quella civiltà si è evoluta è stata portata via e oggi ha famiglia su marte su venere o chissà dopo su aldebarano